Non pieghiamo mai la solidarietà alla logica del profitto finanziario perché in tal modo la rubiamo ai più deboli. A Bologna, in Piazza Maggiore, Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti del mondo del lavoro e dinanzi a tanti giovani che non riescono a trovare un'occupazione e a quanti l'hanno persa e fanno fatica a reinserirsi, ha ricordato che queste realtà non possono ridursi a semplici statistiche ma richiedono soluzioni stabili e capaci di aiutare a guardare al futuro. Il pontificio ha richiamato il recente patto per il lavoro siglato dalle parti sociali e anche dalla Chiesa così come il ruolo svolto da comune, università e Chiesa nella promozione di un umanesimo che dia respiro al domani. La crisi economica ha una dimensione europea e globale e come sappiamo essa è anche crisi etica, spirituale e umana. Alla radice c'è un tradimento del bene comune da parte sia dei singoli sia dei gruppi di potere. È necessario quindi togliere centralità alla legge del profitto e assegnarla alla persona e al bene comune. Ma perché tale centralità sia reale, effettiva e non solo proclamata a parole bisogna aumentare le opportunità di lavoro dignitoso. Dopo la recita dell'Angelus, Papa Bergoglio ha ricordato la beatificazione di ieri a Bratislava del sacerdote salesiano Titus Zeeman, morto nel 1969 dopo essere stato per lungo tempo in carcere a causa della sua fede e del suo servizio pastorale.